Nel complesso lavoro di divulgazione del dottor Scoglio c'è stato anche un altro fronte molto interessante. Ha infatti denunciato con forza quella che lui chiamava la fesseria del grafene, legata anche a tutte quelle teorie diffuse e anche smentite da analisi serie su campioni analizzati e sulla presenza di grafene a scopo manipolatorio e di controllo. Una balla che, secondo Scoglio, era figlia di quello stesso clima di paura con cui si è cercato di dominare le persone negli ultimi anni. Ascoltiamolo in questa intervista che rilasciò in inglese. Non capisco perché accettano questa logica, dicono che è bidimensionale, è una sostanza a due dimensioni nel mondo tridimensionale, giusto? Il bidimensionale è solo un concetto matematico, solo la logica matematica può non avere profondità, ma nel mondo reale, il mondo fisico, nel mondo materiale serve profondità, quindi è impossibile avere una sostanza a due dimensioni. Quando lo dico, dicono oh sì, ma è metaforico, ok? Come si applica il metaforico alla scienza e come stabilisci la mancanza di profondità. È bidimensionale. Se perdo dieci chili e divento più magro, divento bidimensionale? Sei sulla buona strada. Esattamente. O se prendi una carta, sai come una carta da gioco. È bidimensionale perché è sottile. È ridicolo, giusto? È così ridicolo. In Yorkshire riporto anche come hanno creato il grafene. Dicono che il grafene può essere al massimo fino a nove strati, cioè zero nove nanometri o nove atomi. Nove atomi. Nove atomi. Significa invisibile. E dicono che sopra nove strati c'è grafite. Come isolano il grafene? Usano del nastro adesivo. Prendono la grafite, prendono il nastro adesivo e provano a staccare il più sottile. Elemento che potrebbero, ma per sapere di aver preso qualcosa dal grafene, deve essere visibile. Sai, non può essere grafene, giusto? Ecco come hanno fatto. Abbiamo trovato un fiocco sottile di grafite e questo per noi è grafene. Ma è visibile sul nastro adesivo. E dicono che hanno vinto il premio per questo. Hanno vinto il premio Nobel. Sì, o il premio Nobel per aver scoperto il grafene staccando. Grafite con nastro adesivo. All'inizio del documento. Dico che entrando nel campo invisibile. Esatto, nessuno può controllarlo. Quindi puoi dire qualsiasi cosa. Questa è una violazione dei famosi principi di falsificabilità per scopi giusti. Almeno la scienza deve essere organizzata in modo che puoi testare di nuovo e falsificare. Ma come puoi falsificare qualcosa che non è mai stato dimostrato invisibile quando entri nel campo invisibile come i virus? Giusto. Puoi dire qualsiasi cosa. Diventa una fede. Sai, e non c'è possibilità di rifiutare solo dicendo che non hai provato che esiste. Ma a loro non importa. Dicono che esiste e basta. Questo è il gioco. E spostandolo nel campo dell'invisibilità hanno ottenuto questo superpotere. L'altra cosa è perché contesto questa nanotecnologia e il grafene? Perché, come hai detto, credo che dando i poteri che sono Rothschild e compagnia, o come vuoi chiamarli, sai, sono banchieri, lo stato profondo e qualsiasi cosa, i poteri che sono quasi divini. Perché a quel punto, sai, spargi una polvere intelligente invisibile che entra in tutti e ti controllano da lontano. Puoi creare una mitologia davvero spaventosa. È la sostanza di un film dell'orrore in cui sei la vittima e vivi nella paura, sostenendo questa fesseria del grafene. Vivi nella paura e quando sei in ansia sei pronto a fare qualsiasi cosa vogliano. Questa è la chiave della medicina moderna. Quando vai dal dottore, prima di andare via devono darti una sentenza. Che sai, oh, sei molto malato. Oh, hai qualcosa che sai. Hai due mesi di vita e qualsiasi altra cosa. Perché quando hai tanta paura sei pronto a fare qualsiasi cosa vogliano. Sì, ed è per questo che dobbiamo opporci.